eccoci qua amici per la seconda parte dell'apertura del primo box da 24 pacchetti dell'adrenaline ok io direi di cominciare subito senza perderci in troppe chiacchiere ok ecco qua allora del league e poi izzo zapata kulusevski beresinski e mandragora il pacchetto andato finora nessuna top player ok abbiamo che si immobile questa mi manca se non sbaglio anzi no mi sembra che ce l'ho dopo controlleremo masiello stiger larsen ekdal e stracoscia ok troviamo questa pubblicità inutile abbiamo izzo ericsson grande questa mi sembra che manca perfetto radovanovic biraschi leris e cesni subito a bombazza ragazzi veloce veloci senza perderci troppo facciamo il trick vabbè anche se comunque poi alla fine da la scosta non serve beresinski mandragora quagliarella faraoni e questo è romagnoli il capitano del milan o del bilan adesso tutti a spolliciare in giù perché ho detto questa cosa vabbè sono tifoso interista quindi penso che lo sappiate se avete visto i miei precedenti video allora abbiamo lasagna poi bastoni ferrari bocchetti chiellini e cassata ok andiamo con un altro pacchettino ok pandev musso dibala teodor chic muldur e danilo finora ragazzi non vi ho regalato i codici eh sì mi scuso adesso provvederò subito allora vi regalo questi qui allora anche se comunque nel video quando giro le carte si dovrebbero vedere linetti e questo ve lo regalo e poi abbiamo akimi anche questo ve lo regalo ecco vediamo se forse non si è visto bene ok poi abbiamo obiang emperor le rager e zaccagni andiamo subito abbiamo buffon veloso miguel veloso poi becao murro marlon e demiral finora nessuna top play ragazzi ma com'è possibile se ma sono impossibili da beccare queste carte o porca troia scusatemi ragazzi mi è uscita scusate allora belotti gecko samir sanabria danzi e martinez ok passiamo ad un altro pacchettozzo via la pubblicità non ci serve criscito cristiano ronaldo anche questo ve lo regalo per chi gioca online marchetti parolo larsen ed ecdal penultimo pacchetto abbiamo quasi terminato questa questo primo box abbiamo luisa alberto ma mi sembra quasi tutte doppie mamma mia zaniolo buffon linetti stracoscia e melinkovic savic vediamo se quest'ultimo pacchetto ci regalerà qualche carta potente ma ne dubito fortemente quagliarella che ve lo regalo poi qui che c'è gabbiadini super combo questa mi manca e questo anche ve lo regalo poi abbiamo aaron ramsey yancto melinkovic savic e sema ok ragazzi è in quest'altro box da 24 pacchetti nulla di fatto ci è uscito sempre la solita tempesta azzurra che ormai c'è un po sfragassato la minchia eccola qua che devo dirvi ragazzi speriamo che nel secondo box che vi porterò uscirà qualcosina di importante speriamo bene almeno una top player una carta ricercatissima o almeno magari quella di luca cubo che ne so non voglio dire nulla ok ragazzi io vi ricordo sempre di mettere un bel like di iscrivervi al canale di attivare la notifica la campanellina delle notifiche così in modo da quando farò un video arriva arriverà sul vostro telefono sul vostro computer sulla vostra mail una notifica e niente spero che questo video vi sia piaciuto ci vediamo con un prossimo video dove aprirò quest'altro box ciao ciao